È un passo avanti, già qualche cosa è stato fatto, in questa maniera qua oggi presentiamo questo progetto che si chiama Salta la Coda che vi ha incontro in maniera digitale anche a delle esigenze di persone che vogliono recarsi allo sportello in Corso Torino. Infatti questa iniziativa qua che è già partita funziona in Corso Torino, per ora soltanto in Corso Torino sarà possibile prenotare via remoto scaricandosi un'app YouFirst che naturalmente è un'applicazione di tipo gratuito sul proprio cellulare, sull'iPad piuttosto che su un'altra apparecchiatura di questo tipo per prenotarsi il posto senza dover attendere magari dei tempi un pochino troppo lunghi nella sede di Corso Torino. Pertanto uno può ottimizzare il proprio tempo sapendo perché poi riceverà un messaggino che gli dirà e che si sta avvicinando proprio il turno a questo punto potrà andare in ufficio. E soprattutto si creerà anche una maniera di lavoro perché dobbiamo pensare anche alla qualità di lavoro delle persone che sono agli uffici anagrafici che non vedranno magari una coda particolarmente elevata al di fuori degli sportelli e che potranno pertanto lavorare con coscienza, cosa che stanno facendo normalmente ma soprattutto con più tranquillità per dare un servizio migliore ai cittadini. Noi stiamo lavorando già da un anno per cercare di limitare l'affluenza dell'accesso pubblico agli sportelli e la perdita di tempo dei cittadini agli sportelli fornendo dei servizi che possono essere anche servizi alternativi senza che necessariamente il cittadino debba recarsi in Corso Torino e fare delle attese lunghe e prolungate. Abbiamo quindi da lunedì inserito il comune e a breve ci sarà l'ospedale Galliera quindi anche la prenotazione per esempio del centro prelevi del Galliera e ci sono anche altri servizi già disponibili come la prenotazione per quanto riguarda le filiali della BNL o dell'Unicredit e l'info viaggio di Trenitalia presso la stazione di Genova Principe quindi gli utenti che per esempio devono andare nello sportello di Trenitalia della stazione di Genova Principe possono già prenotare il loro turno senza quindi fare la fila reale.